ciao a tutti ragazzi e ben tornati ancora in navi reaction ragazzi me l'avete chiesto tantissimi questo confronto ho detto che non lo faccio perché non c'è confronto tra unica team e altri rapper però voglio sentire un po il dissing che le hanno fatto prince double age non so sembra un wrestler non lo so ragazzi quindi voglio vedere questo dissing e poi la risposta di unica team quindi che dire ragazzi partiamo subito con questo primo dissing di prince partiamo ragazzi sono curioso su questo ragazzoni 12 minuti quindi non so che cos'è 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 and then in legenda giallt come to the city vita per massi Oh ma cos'è? Ragazzi cos'è un video divertente Non lo so ma Prince è il ragazzo che vedo nella foto Non lo conosco ragazzi, mai sentito parlare di lui Sembra, non so, sembra che stia cantando in casa sua Senza neanche un... non lo so Sembra che stia cantando con la voice del microfono del telefono Non lo so Non si capisce nulla Poi il bello è che guardi la foto di questo ragazzo qua Giacca crevata, sopracciglia fatta in maniera perfetta Con tutto... cos'è? Non lo so, penso che sia uno scherzo ragazzi Non credo che sia un disegno, è vero Penso che sia uno scherzo Non vabbè non... Ragazzi... Non c'è un disegno 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 Inutile andare avanti Cioè inutile andare avanti Perché fa... Cioè... Non è una canzone È un... non lo so ragazzi Le parole non si capiscono La traccia è altissima Le parole non si capiscono Dai... Non ha... non... non... questa non ha senso Io non lo conosco Si chiama Prince Double H Double Age è il personaggio del wrestling Quindi... non ho la mina Penso che sia uno scherzo Non penso che sia un dissing veramente quindi che dire ragazzi andiamo subito ad ascoltare Unicatil perché veramente non ho tutto il gel non ho tutto questo tempo per stare a perdere il tempo veramente ascoltando Prince quindi che dire andiamo subito ragazzi ad ascoltare Unicatil andiamo eccoci qua ragazzi con Unicatil ok this is it ok dovrebbe essere il ragazzo di prima che abbiamo sentito Prince quindi che dire ragazzi non credo veramente non riesco a capacitarmi come Unicatil abbia risposto a una canzone del genere non riesco veramente a capacitarmi perché è una canzone di me cioè è una canzone che veramente fa cagare impressionante come Unicatil abbia risposto quindi ascoltiamo e vediamo un po' cosa da dire dai il pop singer Prince è un cantante americano molto famoso però vabbè andiamo ragazzi andiamo ok ok ragazzi ma no 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 imparare ma di che cosa stiamo parlando ma di che dai dai ragazzi di che cosa stiamo parlando Ma guarda, paragonare unica tira a Prince, ragazzi, è veramente un insulto. Non so come abbiamo fatto rispondere, però... Ok, ok. Chi è che te l'ha messo quel nome? Beh, si vede proprio che non gli piacevi. Ok. Ok, ragazzi, imparagonabile, imparagonabile, veramente. Ok. Allora gli ha detto, gli ha detto, ok ovviamente sei gay, non sai cantare, non lo so dalla parte del gay però che non sappia cantare veramente, è una cosa abbastanza palese, non so se lui abbia fatto solo quella canzone oppure ha fatto anche delle altre però ragazzi che non sappia cantare è palese la cosa. No, no, non ci voglio credere. Sei partito per essere una donna e sei uscito un maschio, oh mio Dio, questo è il miglior disting di sempre, Dio santo, oh mio Dio, oh. Ragazzi veramente non so, non so veramente come unicati la mano, non so. l'ha fatto veramente arrabbiare lui perché è possibile che Unicati l'abbia risposto ed è veramente arrabbiato in una maniera unica. E ha detto ok tu vuoi essere come me ma è impossibile ovviamente per te è ovvio ma non come te ma io non lo paragonerei neanche a ferro ma che ferro ferro è buono non lo paragonerei neanche non lo so ditemi un rapper non lo so ragazzi ma non lo paragono a nessuno ma neanche a me mi metto io a cantare secondo me riesco a fare qualcosa di meglio sicuramente riesco a fare qualcosa di meglio quindi non a Unicati è impossibile impossibile Ok Ok Insulta la croce quanto vuoi perché tanto io non sono un prete però non parlare dell'Albania perché poi hai a che fare con me Ok Ok Io ovviamente la sua canzone la prima canzone non ho capito niente quindi non so se c'è una parte dove lui insultava gli albanesi o l'Albania ma non credo però Ok Questa è veramente forte Insulta pure la croce perché tanto io non sono un prete Ok Ok Ha comprato un computer e adesso pensa di essere un duro Oh mio Dio Ragazzi che dissing è questo? Poi sei minuti Ok Ok Ragazzi Unicati può smettere in qualsiasi momento di cantare in qualsiasi momento di cantare può smettere anche oggi non cantare mai più le sue canzoni verranno ascoltate come le canzoni di Tupac che anche se è morto da 20 anni da 24 anni che è morto le sue canzoni sono belle si ascolteranno anche fra 100 anni la stessa cosa vale per Unicati che è un rapper che può smettere di cantare anche oggi però ascolteremo le sue canzoni anche fra 20 anni perché sono delle canzoni veramente uniche è un po' come il primo album di Noisy che li ascolteremo per sempre oppure gli altri cantanti dei Baba Stars non lo so MC Crash eccetera che hanno delle canzoni che sono veramente delle canzoni che ascolteremo per sempre Unicati ce le ha tutte così quindi può smettere anche oggi di cantare veramente nessuno si può avvicinare dal punto di vista della scrittura dei testi è veramente molto molto difficile a 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